Sul territorio irpino arrivano altri migranti. Da aprile la provincia di Avellino ne ha accolti 800 e in queste ore sono attesi altri arrivi. Ieri a Napoli ne sono sbarcati oltre 200 ed anche in questo caso saranno accolti in varie zone della regione. In Irpinia ne arriveranno una quindicina e attualmente sono 22 le strutture di assistenza presenti sul territorio. La prefettura da mese è impegnata ogni giorno a garantire il giusto supporto ai richiedenti asilo. L'arrivo dei profughi è infatti una crescente esigenza rispetto alla quale si cerca di privilegiare i sistemi di accoglienza diffusa basandosi sulla disponibilità di collaborazione da parte dei comuni, chiedendo anche disponibilità alla Curia e alla Caritas. I migranti arrivano prevalentemente da Costa d'Avorio, Ghana, Sudan, Egitto e Bangladesh e si calcola una media di 20 arrivi ogni tre giorni, situazione che richiede un cambiamento di approccio rispetto al tema immigrazione. Da tempo ne è convinto nome italiano della Sala, vice direttore della Caritas diocesana, particolarmente attiva nell'attività di supporto alla prefettura. È sbagliato continuare a gestire l'accoglienza a migranti come un'emergenza, più volte sottolineato il parroco di Mercogliano. Bene allestire strutture, come è accaduto recentemente nella scuola di Bellizzi, ma qualcuno si chiede che fine faranno i migranti ospitati dopo i due mesi di permanenza previsti nel centro di primissima accoglienza. Andranno nei CAS, verranno al dormitorio o, come spesso accade, si allontanano senza alcuna prospettiva. Secondo il vice direttore della Caritas manca attenzione rispetto ai migranti. L'Irpinia continua ad accoglierlo e lo fa attraverso i CAS, centri di accoglienza straordinari e i SAI, sistemi di accoglienza integrata. Un sistema che però, in considerazione di altri nuovi arrivi, bisogna capire per quanto tempo può ancora reggere.